torna l'appuntamento con la via matris la processione degli incappucciati del venerdì santo a cura del gruppo incappucciati torre del greco della parrocchia di santa maria del carmine responsabili del gruppo domenico castiello e silvio garofalo l'appuntamento è per venerdì 7 aprile alle ore 20 dalla chiesa di santa maria del pianto la processione percorrerà come il consueto le vie del quartiere per un momento di preghiera comunitario accompagnata dalla banda dell'associazione musicale culturale torrese abbiamo ideato questo gruppo che accompagna la via matris del venerdì santo e niente siamo andati nel 2013 apparteremo alla chiesa di santa maria del carmine questa è la decima edizione appunto che facciamo questa processione della dolorata insieme agli incappucciati la processione a chi ora inizierà la processione inizierà alle ore 20 dal purgatorio dalla chiesa santa maria del pianto del purgatorio usciremo incappucciati mentre la dolorata sarà nella chiesa del carmine parte da qui la processione con gli incappucciati con i simboli e le donne che manterranno le sette stazioni della via matris e arriveremo fino al carmine dove uscirà la dolorata del caro della dolorata e faremo le percorreremo le vie del quartiere del centro della comunità del carmine i fedeli che seguiranno la processione a cosa assisteranno cosa vedranno allora innanzitutto i fedeli che verranno alla processione parteciperanno un evento comunitario di fede e di preghiera innanzitutto per la via matris che sono i sette dolori di maria poi noi come gruppo abbiamo nato quindi vedranno anche questa tradizione di questi incappucciati che è il simbolo di penitenti e vedrà diciamo vedrà questa processione che accompagnerà la dolorata per le vie del quartiere abbiamo dei simboli e soprattutto sarà accompagnata da questo solo della troppola che è uno strumento antico che sostituisce le campane nel trito pasquale e quindi questo non diciamo uno strumento che si usava anche sotto gli androni dei palazzi in sostituzione delle campane del centro quindi appuntamento a venerdì sera appuntamento a venerdì sera ore 20 fuori la chiesa del purgatorio ci sarà il raduno e poi proseguiremo per la chiesa del carmine ascolto e ascolto e Grazie a tutti.